Buonasera Tzadikim, abbiamo una nuova parashah, una bellissima parashah, bellissimo, dobbiamo capire di che si tratta, perché la verità, possiamo dire che la parashah di questo Shabbat è uno delle due parashot che quando uno deve leggere la Torah, quando leggo io la Torah, la mano inizia a tremare, perché da un lato, è vero, la parashah inizia con bellissimo benedizione, di che la parashah in bechukotai te lechu, v'et mitzvotai tishmeru, v'assitem otta, si andrate nel cammino di ha-Kadosh Baruch Hu, andrate con le sue leggi, camminate con le sue leggi, ha-Kadosh Baruch Hu ti promete, abudanzia, berachah, parnassah, הצlachah, tutti le cose buone che possono esserci nel mondo intero, però, dice la parashah, se uno non va nel cammino di ha-Kadosh Baruch Hu, e uno non ascolta alle percetti di ha-Kadosh Baruch Hu, chas ve-shalom, e la parashah inizia a dire una serie di maledizioni, uno più grave dell'altro, maledizioni che be' a me sono molto difficili, molto terribili a leggere, però, prima di tutto, voglio un po' approfondire se le prume tre parole, che vuole dire, in bechukutai te l'echo, si camminare te con le miei mitzvot, che vuole dire, camminare con le miei mitzvot, le miei mitzvot non si camminare, n'akone, le miei mitzvot, si fanno, in vese di, se la Torah in bechukutai te l'echo, si camminate con le miei mitzvot, io vi manderola miya benedizioni, in bevenza di chi? C'è una grande importanza, un grande punto qui, nel mitzvot non basta farlo, uno deve camminare con le mitzvot. E per spiegare, si racconta che un giorno c'era un tavolo in un matrimonio, e tanta gente stava su questi tavoli mangiando, e sembrava che tutti sono felici, tonto sono gioiosi, però quando terminava la cena, tutti si sono alzati, è andato a casa, tranne uno. E quando il capo del matrimonio dice, perché non vai via? Cioè, vedi, io sono senza gabbe, io non posso camminare. Direi maestri questo un po', quando siamo seduti al tavolo, quando siamo nella nostra zona di conforto, quando siamo nel tempio, quando siamo insieme con la nostra famiglia, quando siamo a casa, tutti possono fare le mitzvot, tutti possono fare la cosa giusta, perché non è una cosa difficile fare la cosa giusta quando tu sei nel tuo ambito, dove tu hai l'ausanza di esserci. Perché succede quando tu devi camminare, quando vai a vacanza, per esempio, hai il Shabbat, come che la fai a casa? O dici, va bene, sono in vacanza, che posso fare? La chiave dell'hotel, la chiave della porta, la chiave qui, eh, come posso entrare, come posso uscire? E come va con il cashew? A casa, sicuro, tutti noi mangiamo casher, Baruch Hashem, Am Israel, tutti i tzaddikim, che succede quando sei in un posto dove non c'è casher? Là, inizia per mettere qui, inizia per mettere là, e questo tzaddikim, che vuol dire il dachukotai teleho, le maestri, le mitzvot, le torot, le azioni beni, il comportamento giusto, la devi fare sempre. La storia deve camminare con te, le tue azioni buone devono camminare con te, non può dipendere di dove sei, non può dipendere se è facile o difficile, anzi, quando è facile, tutti ci sono, però la domanda che fai quando è difficile? Però tzaddikim, voglio approfondire di un'altra cosa. Abbiamo detto, l'inizio della parasha parla di benedizione, dopo parla di maledizione, maledizione behemeth, difficile, molto difficile leggere qui, vishmati, manco voglio tradurre queste maledizioni, quanto sono difficili, e dopo tutto quanto, e nella quarta chiamata, la parasha inizia a parlare di una cosa, che non si capisce qual è il collegamento tra questa cosa e le maledizioni e le benedizioni, la valutazione di un donazione al santuario. Che voglio dire? Noi sappiamo che oggi quando un uomo ha difficoltà, quando un uomo subisce un'epoca difficile, noi ebrei sappiamo che ci sono tre cose che possono salvare dell'ebrei di quella stessa cosa terribile che può succedere. E queste tre cose che sono tefilà, tre gare, due teshuva e la terza tzedaka. Forse la ultima è la più facile di due e tre, perché tzedaka ha i soldi nella tua tasca, la dai, donazione a un povero, a un tempio, a un bisognoso. È una cosa facile, tefilà, non deve dedicare tempo, teshuva, ancora forse di più, quindi ogni uno di noi, quando ha i suoi momenti, o ha bisogno di una bracha speciale perché deve fare una cosa importante, che fa? Fa una tzedaka. Antiguamente, però, quando c'era il betta migdash, non davi tzedaka al tempio o a queste stesse organizzazioni, davi subito una donazione al betta migdash. Bezrat Hashem, si Hashem mi aiuterà, io manderò una buca a sacrificio, manderò un capreto, donerò soldi alla cassa del tempio per comprare sacrifici, per fare cose. E tante volte, quando l'uomo voleva avere una espiazione completa, che faceva? Voleva fare una caparà, diceva, io daccio donazione e la mia valore. Sento che ho difficoltà, sento che sto male, voglio dare una donazione della mia valore. Oh, mia moglie sta male, voglio dare la donazione del valore della mia moglie. Oh, il mio rabbino sta male, voglio dare la donazione del mio rabbino, il suo valore. Chiede la Torah, qual è la valore? Qual è la valore di un uomo? Quando l'uomo dice, io voglio dare una donazione della mia valore, da quanto soldi si tratta? O quando l'uomo dice, io voglio dare una donazione della valore della mia moglie, quanto vale? Quanto soldi è? In mezza di chi? Noi di solito sappiamo come si stabilisce un valore di qualcuno. Per esempio, quando c'è un danno, mai sia quando l'uomo fa un danno, per esempio, uno ha rotto il gambo dell'altro e lui deve pagare il danno che fu fatto. Come posso io sapere quanto vale questa gamba rotta? Molto semplice. Antiguamente si andava al mercato delle schiavi e si chiedeva in questo mercato, vedete, se c'è un uomo così, 180 metri, alto, grande, magro, quanto vale se io lo voglio vendere? E si dice un prezzo. E dopo si chiede e se fosse questo uomo senza gamba, sì, quanto valereva lui? E si fa una matematica, si guarda il valore con gamba, il valore senza gamba, la differenza, questo è il danno. Quindi vediamo quando si parla in la Torah sulle leggi di danneggio, che quando uno deve pagare un danneggio che ha danneggiato qualcun altro, la valuta come viene visto, la valuta viene vista secondo il valore che uomo vale nel mercato di schiavo. Ovvio che ognuno avrà un valore diverso, sì, per esempio un schiavo saggio, un schiavo intelligente, un genio per esempio, il suo valore sarà mille volte di più, è per esempio un bambino di cinque anni che non sa camminare, non sa fare niente. Invece qui succede una cosa strana, dice la Torah, se tu puoi donare il tuo valore, non andiamo al mercato delle schiavi, non andiamo a controllare questa cosa, c'è un prezzo che è un prezzo fisso. Quali sono questi prezzi fisici? La paracencia dice, da 20 a 60 anni il prezzo fisso sono 50 moneti di argento. Tra parentesi un moneto di argento all'epoca allora ha più o meno 16 grammi di argento. Quindi 50 moltiplicare per 16 grammi di argento più o meno sono 700 grammi di argento. Quanto è il valore di questi 7 grammi di argento? Questo la donazione che uno deve fare. Quindi un'altra volta un uomo tra 20 e 60 anni 50 monete di argento. Invece se lui è un bambino da 5 a 20 anni sono 20 monete di argento. Se invece è da 0 a 5 anni sono 5 monete di argento. Se invece è più di 60 anni sono 15 monete di argento. Quindi vediamo che la Torah dice molto chiaro tu vuoi dare una donazione di un valore di un uomo non importa chi uomo sarà quando sarà importante quando sarà bello quando sarà forte quando sarà debole quanto sarà saggio c'è un prezzo fisso dipende della età. E la stessa cosa dice la Torah per una donna se un uomo vuole dare una donazione al valore della sua moglie perché lei sta male o al valore della sua madre o della sua zia o della sua figlia perché vuole che lei si sposa quanto vale? Un'altra volta dice la Torah da 20 a 60 anni 30 monete da 5 a 20 anni 10 monete da 0 a 5 3 monete 60 anni più 10 monete va bene non importa qui per capire il concepto le numeri l'importante è capire che la Torah dà una valutazione la domanda che ti voglio chiedere adesso qual è il collegamento tra questa cosa con le maledizioni appena la Torah ti ha detto se tu non andrai nel cammino di Hashem se non ascolterà Kadosh Barrua Hashem ti porterà maledizioni uno dopo l'altro uno più grave dell'altro subito termina la storia delle maledizioni c'è molto semplice se tu vuoi dare una donazione è la valore di qualcuno il valore suo è così e ci guarda uno con l'altro la cosa semplice possiamo dire è molto semplice se tu vedi che vengono maledizioni quello bisogna dire che tu hai bisogno di una espiazione hai bisogno di una caparara cerchi forse di fare il sedaka come si fa il sedaka la Torah ti spiega però ci sta anche una cosa più profonda fra parentesi se si prendono tutti i numeri delle donazioni che abbiamo in questa parashah e facciamo la somma 50 grammi 30 20 sono 143 dice il Balaturi 143 sono la quantità di maledizione che c'è scritto in la Torah secondo il Balaturi abbiamo 98 non in questa parashah più 45 in questa parashah facciamo tutti e due insieme 143 maledizioni e per questo se noi vediamo le numeri che vengono dato qui sono esattamente 143 143 è il numerico queste monete perché queste monete queste cifre di tzedakah vengano subito dopo le maledizioni quando uno riceve una maledizione tante volte questa cosa ha un peso per esempio di Shabbat quando uno va questo sabato al tempio e sente il Hazan leggere queste maledizioni questa cosa ha un peso uno ha un sentimento di colpa uno dice va bene come posso davvero vivere che valore ce l'ho io ci sono maledizioni così terribili come posso andare avanti nella mia vita sapendoci che ci sono così tante sofferenze che valgo io sicuro uno come io sicuro riceverà tutte le maledizioni perché io sono niente non mi comporta bene non faccio le cose giuste ma uno di noi è detto al cuore si deve essere onesto questi sono i sentimenti che uno a volte sente uno non è in gamba uno che non siamo debole siamo tante volte sbagliamo tante volte facciamo la cosa in un modo non giusto e uno può pensare sai che si è così valgo zero se valgo zero la mia vita mai se nessuna cosa andrà in un modo bene nessuna cosa andrà in un modo così e chi qui viene la tua dice aspetta e tu pensi che tu valgo zero perché la valutazione tu stesso è zero io ti dico che non importa chi sei se tu sai Moshe Rabben che dai una donazione del tuo valore o se tu sei un uomo semplice che non lo so che pulisce la strada mai hai studiato mai sai un alfabetico mai sai leggere mai sai scrivere anche Moshe Rabben quando lui dice io voglio dare la donazione della mia valore o anche un uomo che pulisce la strada dice io voglio dare la donazione della mia valore dice la Torah la valore sarà uguale sono 50 monete monete di argento non importa e sei da dove è quella che voglio insegnare una cosa importante alzati tu sei importante di chi per capire il concetto è un concetto molto profondo se io voglio vedere la differenza per esempio tra 10 e 100 qual è la distanza tra 10 e 100 io la distanza tra 10 e 100 è 90 però se io ti chiedo qual è la distanza tra 100 e 1000 dice vedi è tanta di più non è 90 tra 100 e 1000 è 900 e se io ti dice quanto è la differenza tra 100 e 10 1000 la domanda vera non è qual è la distanza tra 10 e 100 o 100 o 1000 quanto è la distanza tra 10 e l'infinito matematicamente qual è la distanza tra 10 e l'infinito la risposta è infinito qual è la distanza tra 10 e 1000 e l'infinito rimane infinito qual è la distanza tra un milione e l'infinito rimane infinito dite maestri noi ci sottovalutiamo tante volte perché noi ci valutiamo uno attraverso l'altro io attraverso l'altro posso avere una distanza può essere un valore può essere una differenza tra di noi però se noi ci valutiamo attraverso Akkadosh Baruch che lui è l'infinito siamo tutti uguali non importa se tu sei un tzaddik o se tu sei un cattivo se tu fai le cose giuste nella vita o fai le cose sbagliate nella vita la distanza tra te e il creatore sarà sempre uguale perché o che la distanza tra qualcosa è l'infinito rimane sempre infinito questa è una cosa che Akkadosh Baruch ci vuole insegnare ci vuole insegnare dicendo a te tu devi sapere tu sei importante e non pensare che vali meno dall'altro se tu vedi l'altro che lui è un tzaddik io sono niente lui vale qualcosa dice tranquillo anche te anche lui la stessa distanza è stata tra me non c'è una differenza però che succede il tzaddik noi nella vita tante volte abbiamo carico pesato nella nostra vita tante volte abbiamo grande peso su di noi non è colpa nostra a volte succedono bambini che quando hanno 5 anni per esempio loro giorno ritornano e sgridano su di loro e tu perché fai così e tu sei capace non hai fatto bene poveraccio questo bambino quando crescerà avrà questo peso perché lui sempre ricorderà anche se lui non la ricorda così perché la sua diciamo è superficiale ha dentro la sua anima ma lui ancora ricorda questo peso o mai sia genitore che liticano che dicano a un bambino mai sia che mai suggererò una cosa così spero però si succede è per colpa tua che papà e mamà stanno litigando vedi come ti hai comportato vedi adesso io devo litigare con mamà o io devo litigare per colpa tua il bambino questo peso Moshe esce del castello, del palazzo e vede le sue fratelli e lui vede la sofferenza delle sue fratelli la Torah non ci racconta qual è questa sofferenza che lui ha visto che cosa lui ha visto che la Torah dice che Moshe Rabbenu vede le sofferenze delle sue fratelli gli racchi e le midrashim dicano Moshe Rabbenu ha visto che gli egiziani che facevano? prendevano un bambino di 10 anni e mettevano sulla sua spala un peso che ha dato per un ragazzo di 30 anni per caricarlo prendevano un uomo di 60 anni e lo davano il peso di un ragazzo di 18 anni di caricare prendevano una donna e davano un carico di uomo un anziano di un bambino un bambino di un anziano eccetera e Moshe Rabbenu che vede che la gente stanno caricando sulle loro spalle un peso che non è adatto per loro e che fa Moshe Rabbenu? dice il midrash la Moshe Rabbenu non lui inizia a caricare con loro lui che faceva? ha detto Moshe Rabbenu tu sei 10 anni gli hanno messo 40 kg quello ha 18 anni gli hanno messo 5 kg aspetta vengono tutti e due qui prendo il peso di questo bambino che ha 10 anni e sistemo le pacchi faccio transfer della quantità che c'è sul bambino e su quello adulto in altre parole quando Moshe Rabbenu vede la sofferenza qual è questa sofferenza? la sofferenza è un carico che non è adatto e come lui sistema questo carico è molto semplice non è come può aiutare lui vede migliaia di gente caricare peso molto semplice dice Moshe non c'è problema di caricare sempre caricare è difficile non importa quanto pesa però sì il peso è adatto per te è fattibile sì il peso non è adatto per te e nel fine morirai e dice Moshe Rabbenu dobbiamo sistemare le cariche Moshe Rabbenu era là nel senso sistemare le pacchi ognuno con il peso che era adatto per lui per caricare e quanto misericordia lui ha avuto con il popolo con questa cosa e questo sa di chi una cosa importante un uomo non deve prendere troppo peso su di lui non è colpa tua lo che succede con i genitori lo che succede con i fratelli lo che succede con i figli lo che succede con qui non devi prendere tutto su di te ogni ebreo deve sapere quale carico ha detto per lui sì è vero vogliamo tutti aiutare vogliamo tutto fare bene però sempre dobbiamo sapere quale sono le nostre capacità quanto carica davvero possiamo prendere questa è una cosa che un uomo deve essere consapevoleve e questo tzadikim la grandezza la grandezza dice la parashat non avere paura di maledizione non sentire male tu sarai benedetto la tua carica sarà una carica positiva dice Rabbi Aaron Mikarli dice una cosa incredibile sai qual è la cosa più peggio che può succedere quando un figlio di un re dimentica che lui è un figlio di un re e si comporta come qualsiasi uomo dell'astra questo dice Rabbi Aaron Mikarli nel grande Rabbi Aaron Mikarli lui ha scritto un canto si chiama una delle canzioni più belle di Shabbat tutti la cantano se è una canzone quando tu la senti ti apre il cuore si dice che questa canzone lui l'ha scritto con così si dice erano canzioni Rabbi Aaron Mikarli famoso Rabbi Aaron Mikarli che canzone bellissima era un uomo molto molto alto molto molto si vedeva sempre il bene ogni ebreo e lui sempre diceva la cosa più peggio che può succedere è quando il figlio del re dimentica che lui è un figlio di un re e questo siamo noi ognuno di noi siamo ebrei siamo figli del re non sottovalutare tu stesso tu sei un figlio di un re perché se tu sottovalutare tu stesso subito le maldizioni arrivano non perché sei maldetto perché tu maldici tu stesso sapete che voi dovete sapere 99% delle problemi che un uomo subisce nella sua vita non è perché ha sempre un mandato è colpa sua perché non riesce a lavoro perché sai prego non ti svegli alla mattina perché non riesci a sposare perché non vuoi nessuno sei troppo picchi perché non riesci a fare questo perché non hai shlombait non perché shemash non vuole che tu hai shlombait perché tu sei uno che ti arrabbi troppo ci sono problemi del cielo mai sia cosa di salute cosa qui cosa là queste sono cose che vengono a dire kadosh baruchu con la maggior parte delle problemi siamo problemi che facciamo noi stessi auto maldiciamo noi stessi quanta volte questo succede e perché succede perché non crediamo in noi stessi uno deve credere sapere che lui vale Moshe rabbino o il lobo più semplice dice la nostra parasha subito dopo la maledizione hanno la stessa valore 50 tutti tutti hanno la stessa valore è importante come Moshe rabbino come rabbia akiva come il profetto più grande che c'è Tu credi che tu sei del popolo scelto? E lui dice sì. Io sono, dice il rabbino, io faccio parte del popolo scelto. E loro l'hanno buttato sulla terra. Tu ancora credi che fai parte del popolo scelto? Dice sì. Io faccio parte del popolo scelto. E lui ha iniziato a dare golpe a questo rabbino poveraccio, uno dopo l'altro, fino a che sangue tutto il corpo. Tu credi che fai parte del popolo scelto? Dice sì, faccio parte del popolo scelto. E' venuto il capitano con l'arma, la voleva tirare sulla testa, la voleva uccidere. Dice perché tu credi che tu fai parte del popolo scelto? Come può essere che uno che fa parte del popolo scelto soffre così tanto attraverso le nostre mani? E vedi che risponderà Nicolo Esau. Che risposta? Fino a che noi ebrei non saremo mai capace fare lo che voi naziste siete capaci da fare. Saremo sempre del popolo scelto. E questo capitano l'ha sentito queste parole, si è arrabbiato e a fronte di tutti è ammazzato. E con questo rabbino parole le adormi che lo esabuchiamo. Che parole? Fino a che noi ebrei non saremo capace fare lo che voi fate, saremo il popolo scelto. Vediamo che il popolo scelto, la forza non è una forza fisica, la forza è una forza mentale. Non per niente, quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il corpo, qual è la cosa più alta nel corpo? Con la testa. Perché non ha messo la testa sotto? E le mani? Che sarà il mano? E il mano può essere la cosa più alta. Ma si può che la fortalezza dell'uomo, lo che deve governare è la testa. E se la testa governa e tu fai la cosa giusta, vedrai, non ci saranno maledizioni nella tua vita. Perché le maledizioni le provochi a te. Non è Hashem che ti lo mando. Attraverso le tue valori, attraverso il tuo comportamento, attraverso le cose che hai fatto, dice, Il lavoro dell'uomo sarà pagato, secondo come tu hai fatto, lo che hai fatto, così sarai pagato. Con questo uno deve sapere quanto è il suo valore. Quanto è il suo valore. Oh, ala, dami e shalem lo. Si racconta che un giorno le nazisti sono arrivati a una città, in Polonia, là. Hanno cercato tutti gli ebrei per portarlo alla campa di concentrazione. Hanno preso tutti gli ebrei? Erano per andare via di questa piccola città? In occhio un goi dice, scusa, non avete preso tutti gli ebrei? Ci manca uno. Manca uno. Noi siamo andati al tempio. Abbiamo visto le listine di tutti gli ebrei. Tutti gli ebrei che frequentano il tempio. L'abbiamo preso? Sì, sì. Però c'è un ebreo che non frequenta, che non l'avete preso. Chi è? Il sindaco. Sindaco. Questa città, ebreo. Lui si chiama Ivanovich, qualcosa, non lo so. Ha un nome di un goi. Sì, sì, sì. Va bene. Il capitano, questo nazista, va alla casa del sindaco. Lo bussa alla porta. Tu sei ebreo? Sì. Io sono ebreo, non vedi? Il mio nome non è ebreo. La mia moglie si chiama Svetlana, non è ebrei. Le mie figlie non sono ebrei. Vieni. Ti abri il mio frigorifico. Vedi che mangio. Mangio maiale. Tu pensi che sono ebreo. La moglie non è ebrea. Mangio maiale. Non faccio niente. Io non sono ebreo. E lui era ebreo, però. Lui si è allontanato. Quando ero giovani, ha lasciato tutto. Non c'era nessuna cosa che lui faceva. Niquipù, Nishabba. Nessuna cosa delle 613 Mitzvot che faceva. Ha detto questo capitano nazista. Io ce l'ho il modo, vedete. Se tu sei ebreo, vieni, vieni con me. L'ha portato al tempio della città. Ha fatto uscire il Sefer Torah. L'ha messo sulla terra. Se tu non sei ebreo, cammina sul Sefer Torah. Sare di chi? Questo ebreo che era lontano. Non ha fatto niente. Con una goia. Semilato. Maggio maiale. Le fa qualsiasi cosa. Mangia di kipù. Mangia a mezzo di pesa. Non è capace di camminare sul Sefer. E questo ebreo ha aperto la sua camicia in tre ragioni. Uccide me. Io sono ebreo. E buono. L'hanno ucciso. Questo è il valore di un ebreo. Quanto forza un ebreo ha. Quanto capacità un ebreo ha. E questo è lo che dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere. Le problemi. Le maledizioni sono provogate attraverso da noi. Dice ho letto questa settimana una cosa incredibile. Noi in Perkei Avot. Nel secondo capitolo. Nella prima Mishnah. Diciamo Dà male mala Mimcha. Sapi. Così dicevi perché Avot. Sapi. Lo che c'è sopra di te. Dà male mala. Sapi lo che è male. Lo che c'è di sopra di te. La spiegazione è semplice. La bico mio. Sai attento che fai. Sai che c'è sopra di te. Ogni cosa che fai. Viene scritto. Non c'è scappare. Ovviene il Maghid Mimezric. All'uno del Baal Shem. Dice no no. Dà male mala. Tu vuoi sapere lo che c'è sopra. Mimcha. Dite. Lo che tu sai. E lo che c'è sopra. E lui spiega. Leggo. Immnitoreratsadik be'ahavà. Sì l'ebreo inizia a amare tutto il mondo. Sveglia. Un ebreo che si sveglia la mattina con amore. Proverso tutti. Amo tutti. Non sono arrabbiate su con nessuno. Voglio bene tutto il po'. Sinistra, destra. Religiosi. Non religiosi. Quelli che mi hanno fregato. Quelli che mi hanno fatto bene. Amo tutto il popolo. Mi add. A Kadosh Baruch Hu no egbo be'ahavà. A Kadosh Baruch Hu stesso. Dice il Maggi Mimizritch. Inizia a comportare attraverso lui con amore. Ma se si sveglia con crudeltà attraverso di lui. Stessa cosa con misericordia. Hai messericordia? Hai messericordia? Ha messericordia con te? Dice le mai. Dice il Maggi Mimizritch. Tu vuoi sapere come, qual è la situazione nel cielo? Come Hashem ci sta? Se lui è arrabbiato su di te? È felice con te? Amate? Ha messericordia con te? O è crudele con te? Dama le mani. Il Maggi Mimizritch dipende di te. Lo che tu sarai. E questo è lo che lui sarà. Incredibile questo Maggi Mimizritch è una fondamentale. Dice Davide Melech. In capitolo 91. Hashem è la tua ombra. Come ti comporta? Comporta te. E per questo tzaddikim. Subito dopo questa parashah di maledizione. La Torah ti dà la lezione sul valore. Tutto dipende da te. Tutto dipende come tu vedi le cose. Se un uomo sapessi con una parola che cosa lui può muovere nel mondo di uno, un'azione mono, quanto cosa uno può fare? Quanto cosa uno può fare? Quanto un uomo può trovare? E questo tzaddikim, l'importanza di un ebreo. Questo di che dice? Dice il Maggi Mimizritch. Dama le mani. Dice Davide Melech. Dice Davide Melech. Che col ma che c'è il bambino. Tutto che c'è nel cielo. A col mimica. Dice. Questo è incredibile. Questo. Lo che noi diciamo, che quando un ebreo fa qidush di benerdi, lui dice che va yicholua, shami e l'arzo coltze v'am. Lui viene sotche con il corretto. E lui viene sotche con il corretto. Un ebreo può essere sotche con il corretto. Non si dica mai. Sì, sì, sì. Tu fai qidush. E si dice, ma sei sotche con il corretto? Non puoi essere sotche con il corretto. Sì, sì. Lo semplice. Beh, tu crea. Quando ti comporta bene, tu crea amore nel cielo, attraverso il mondo. Quando ti comporta in un mondo che non è adatto, crea. Dopo questo tzaditì. Dobbiamo ritorno all'inizio. Dobbiamo tornare a togliere il peso. Moshe Rabbe no vede che la gente ha su loro spalla un peso che non è adatto. Prendono colpa su di loro e che non è. Tutti bene, perché deve sistemare tutto il mondo. Sei felice. Sì, sistemare per un mondo di attraverso l'amore. Non prendere il suddito. Lascia anche gli altri fare qualcosa. Sì, è così perfetto. che dici all'altro come deve comportare. Prima di dare la colpa a qualcuno, hai visto tu stesso nel specchio? Questo tzaditì, lo che noi dobbiamo sapere. E' bezzatashen. Questa è la storia di un berhukotai telehu. Unse la parashah. Si camminerete con l'emizzo. O che è un berhukotai telehu? La Torah non è un libro di legge. Dipendola la Torah. L'ebraismo è un libro di legge. No. Ebreo non è legge. Ebreo non è sì fare, non fare. Questo non è ebreo. Sì, c'è bisogno. La Torah dice, però non è questo ebreo. Questo ebreo è un stile di vita. Come parlare con l'altro? Come sentire? Come addentro? E così dice la Torah deve camminare. Deve fare un parto integro da te. La Torah ti posso fare come tu stesso. Come tu saluti un uomo. Come tu pensi. Quanto è importante. Più che fai, quanto pensi. Chi sa quanto tu pensi. Si dice che dopo 120 anni, lo dice il Zor, quando uno arriva al cielo e lo fanno il giudizio, quando lui viene giudicato, vengono tutti la gente che lui ha conosciuto e che sono già morti. Le sue noni, le sue amici, anche il suo vicino. Se lui aveva un vicino che già è morto, viene là nel cielo. E fanno vedere affronto di tutti, affronto di te, affronto di tutta tutta la gente che tu conosci. Un film, è questo film Hollywood, sì, film, pelicola, Netflix. Si vede tutte le cose che hai fatto nella tua vita. però c'è una grande differenza tra lo che succede là e lo che succede qui. Qui quando tu vedi un film, tu vedi solo lo che la gente dica, no, tu non vedi lo che la gente pensa. Invece nel film là nel cielo ci saranno le sottotitoli, no? Si sentirà lo che tu dici e i sottotitoli fanno vedere lo che tu pensi, sì? Quindi immagini che tuo amico che era già morto stai nel cielo, lui vede nel film che tu l'hai detto ah, quanto sei bello, quanto ti voglio bene, sottotitolo, io non voglio bene questo, non lo posso vedere. Che vergogna. Che vergogna. Questo vuol dire essere ebreo, è proprio un modo di vivere, un modo di essere. E per questo noi prima che arriviamo adesso a Shavuot ci siamo casi quanto manca ricevere la Torah, la Torah in più, tanto più di che si può fare e che non si può fare. Ovvio è obbligato, Shabbat è essenziale, un ebreco non sa Shabbat, non si inizia anche a parlare, un ebreco non mangia il cacereo, però non importa, al di là di tutto quanto, e per questo noi tutte queste settimane stiamo studiando perché avvot, quanto debbiamo studiare, perché deve che era scadmare la Torah, è il modo di esserci, è il modo di comportarci. e l'abbiamo e l'abbiamo e l'abbiamo e presto vedremo al Mashiach Cicchino e Shabbat Shalom a tutti quanti Shabbat Shalom